Non ci saranno al momento modifiche agli orari di accesso al centro storico per i veicoli dei corrieri. In consiglio comunale la lista De Pascale Sindaco ha presentato una serie di osservazioni per chiedere misure più stringenti in modo da ridurre il numero di furgoncini e di mezzi privati che percorrono le strade strette del centro. Dall'ottobre dello scorso anno la consegna delle merci per chi ha i permessi è prevista dalle 3 alle 10 e dalle 14 alle 16 nelle zone a traffico limitato e dalle 3 alle 10 nelle aree pedonali. Con la pandemia poi sono aumentate le persone che acquistano online su internet o nei negozi di vicinato portando così ad un aumento dei veicoli per le consegne. Nella propria interrogazione l'ista De Pascale Sindaco ha presentato diverse richieste. Anticipare la chiusura del centro storico ai mezzi, inasprire i controlli e aumentare il numero di telecamere intelligenti in grado di scovare automaticamente i trasgressori. Sovente, infatti, in determinati varchi della città i mezzi entrano poco prima delle 10 e, sapendo non esserci occhi elettronici all'uscita, escono dal centro storico più tardi del consentito. Nell'interrogazione il capogruppo Daniele Perini ha chiesto inoltre maggior rispetto per i monumenti unesco e più controlli nei posteggi carico-scarico spesso occupati per lungo tempo da auto private. L'amministrazione comunale però al momento non cambierà gli orari di accesso al centro storico pur riconoscendo la debolezza dell'impianto di videosorveglianza. Per questo motivo è stato studiato un progetto di rinnovamento dei 5-6 varchi, oggi deboli, ma attualmente mancano i fondi. Il Comune ha inoltre commissionato uno studio per realizzare un servizio di consegna merci in centro con mezzi sostenibili e più idoni a circolare nelle vie. Lo studio ha dato esito positivo, ma la volontà dell'amministrazione è di favorire un investimento da parte di uno o più privati e non di intervenire direttamente. A manifestare malcontento sono però anche gli stessi commercianti con i quali prima o poi dovrà avvenire un confronto sul nuovo regolamento introdotto lo scorso anno. Contrariamente all'interrogazione i negozianti chiedono un allargamento delle fasce orarie per i corrieri e anche per loro stessi qualora debbano effettuare consegne. Le maggiori difficoltà si manifestano per tutte quelle realtà commerci deperibili da consegnare quindi in giornata.